Siamo quello che mangiamo, un adagio sempre valido, ma non solo, si può aggiungere siamo come mangiamo, perché mangiare in un modo o in un altro, al di là della natura del cibo, denota la nostra socialità. A Taranto, presso l'Associazione Ambulatorio Cibus Cura e Cultura, è partito un seminario pubblico di notevole interesse. Chi si iscrive comincia a confrontarsi con i docenti per capire e far capire quali sono le sue conoscenze in materia di cibo, diete ed effetti sulla salute. Poi, se ne avrà bisogno, potrà cominciare anche a farsi curare eventuali disfunzioni determinate da cattive abitudini alimentari. La caratteristica di questa iniziativa è proprio l'intermodalità, l'interazione tra le parti, la conoscenza guida fino alla consapevolezza, più facile a farsi che a dirsi. Ed alla fine il biologo nutrizionista del centro è in grado di indicare con precisione l'alimentazione più giusta per ogni singolo soggetto. Resta valido un principio generale, l'alimentazione più sana è quella della dieta mediterranea. Ascoltiamo il nutrizionista Giuseppe Marzulli. La dieta mediterranea è intesa come dieta a basso indice glicemico, una dieta in cui i carboidrati devono essere monitorati e soprattutto complessi, non molto raffinati. Una dieta che comporta un abbassamento dell'insulina, l'insulina che è poi l'ormone che ci fa ingrassare in realtà. Una dieta che deve essere anche abbinata e deve considerare lo stile di vita dell'uomo di oggi, del 2014.